Buonasera a tutti, innanzitutto un ringraziamento per aver preso parte a questo convegno e un benvenuto ringraziamento anche ai nostri ospiti che faranno più in là degli interventi sul tema dell'ambiente, però prima di dare spazio a loro vi chiedo due minuti per poter vedere un filmato. Grazie. 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 di vedere questo filmato, ognuno di noi ha ricevuto questa locandina in cui vi è un titolo abbastanza particolare, l'altro ambiente, un'accezione forse diversa da quella a cui siamo stati abituati perché pensavamo all'ambiente, alle problematiche dell'ambiente come quelle connesse al problema dell'effetto serra, al problema dello disgello dei ghiacci, un qualcosa che in qualche modo non faceva parte della nostra vita più pratica, più vicina. Adesso invece siamo ritrovati con una serie di problematiche che in qualche modo sembrano molto vicine alla nostra realtà quotidiana ed è forse l'altro ambiente di cui si parla in questo convegno. Adesso voglio dare la parola ai nostri ospiti, in particolare ringraziamo Roberto Torre, Presidente del CAT Roma, Comitato Ambientale e Territoriale. Un applauso. Buonasera, io penso di non alzarmi dalla sedia perché questo significa poi essere dominanti. Noi abbiamo solo il tavolo per una questione di praticità, ma non vuole essere un tavolo come quello dei politici che invece creano la solita barriera. La grande soddisfazione innanzitutto è stata quella di non avere istituzioni a questo tavolo. E in un momento come questo che noi stiamo vivendo, dove tutto sta scivolando, ci sta cascando addosso, io devo ringraziare prima di tutto quel fenomeno che ha inventato Internet e che ha permesso di incontrarci, di fare la comunicazione vera, di esprimere i nostri problemi, i nostri pensieri senza bisogno di essere segnati o legati ad un albo di giornalisti che è una casta vera e propria, che condizionano la vita quotidiana di tutti noi. Però io tornerò alla fine su questo problema. Intanto voglio ringraziare voi in sala di aver raccolto questo invito perché il lavoro quando si mette in piedi un convegno sotto una campagna elettorale, credetemi c'è da sormontare montagne con tutte le guerre, le vecchie guerre che questi signori politici nefasti oramai e auguriamoci in via di estinzione perché altrimenti sarebbero guai duri per noi. Organizzare questa cosa è stata una vera faticata, ma l'abbiamo fatto col cuore, l'abbiamo fatto volentieri e io voglio ringraziare soprattutto l'Avvocato Lucio Barnetta che è il Presidente dell'Associazione S.S.O.S. Diritti, Sergio Appollonio che è il Presidente del Comitato di Malagrotta, Serenetta Monti, amici di Beppe Grillo, Dario Damburrano, amici di Beppe Grillo e abbiamo anche Stefano Franco, amici di Beppe Grillo e Antonio Amati, Comitato per la Niene. Questa sera io lascerò molto spazio a loro, chiaramente nell'arco però chiedo bene dei 5-6 minuti e sulle problematiche che magari chi abitava a Malagrotta non sapeva cosa accadeva a Roma Est o fuori Roma o chi era a Roma Ovest non sapeva cosa succedeva a Roma Nord perché questi signori ci imbastiscono con questi telegiornali, noi ci basta vedere il TG1 con Riotta, sinceramente vorrei tornare bambino per imparare a vomitare su queste cose che ci stanno regalando. Io allora intanto per iniziare darei la parola subito a Sergio Appollonio che ho avuto il piacere di incontrare, ho avuto il piacere di condividere un'intera giornata sulla discarica di Malagrotta che Malagrotta è la più grande discarica d'Europa ma significa Roma e tutti noi e siamo veramente in un'emergenza peggiore di quella di Napoli, molti di voi questo non lo sanno perché la televisione non lo racconta. Sergio io vorrei lasciarti il microfono e grazie per il tuo intervento. Grazie Roberto, sarò quanto più possibile, rapido per non dire telegrafico. Mi sembra che visto che Roberto ha evocato questa campagna nefasta dei politici, la realtà è purtroppo in gran parte nefasta e bisogna finalmente affrontarla. Vorrei dire che uno dei primi compiti, per non dire delle prime sfide che i consiglieri della lista civica di Peppe Grillo avranno in consiglio comunale sarà, tanto per essere molto precisa, quella del Cassificatore di Roma che come sapete è in costruzione a Malagrotta. Noi ci siamo posti in tutti i modi a questo Cassificatore, da due anni abbiamo fatto manifestazioni, sciopri della fame, interventi da ogni parte, a nulla è servito. L'ingranaggio degli interessi economici, politici della casta allargata va avanti e ormai praticamente il Cassificatore è costruito. Ora che cosa succede? Per affrontare il problema c'è un punto molto preciso, la valutazione di impatto ambientale di questo impianto, non quella che avevamo chiesto noi, cioè la valutazione di impatto ambientale complessivo di tutti gli impianti dell'area, che sono tanti, che creano una massa che fa di quella zona una delle più pericolose potenzialmente non solo del Lazio ma d'Italia, non la valutazione di impatto ambientale complessivo che non è stata mai fatta, ma la valutazione di impatto ambientale che è stata fatta dalla Regione. Questa valutazione prevede che in maniera tassativa il Cassificatore non possa entrare in funzione se non vengono effettuate in maniera continuativa le misurazioni delle emissioni al camino. Ora neanche la cosa sperimentale della prima linea del Cassificatore può partire se queste misurazioni non vengono effettuate. Quindi questo è scritto, è il documento ufficiale della Regione, questo bisogna prenderli alla lettera e quindi esigere che queste misurazioni vengono fatte. Seconda cosa, la questione del monitoraggio dell'aria della zona. Incredibile ma vero, in quella zona ultra inquinata, sovraccarica di impianti, dove da 50 anni sono stati scaricati qualcosa come 50 milioni di tonnellate di rifiuti romani, in quella zona non c'è neanche una centralina. Abbiamo avuto l'impegno, l'assicurazione, la promessa e il giuramento dell'assessore regionale all'ambiente che la cosa sarebbe stata fatta. La cosa non è stata ancora fatta. Adesso ci dicono che è in corso una gara europea addirittura per comprare una centralina un po' complessa, ma insomma una centralina che non è niente di particolare. Nel frattempo noi abbiamo detto che non può partire la sperimentazione dell'impianto fino a che non c'è la centralina, allora ci hanno promesso un mezzo mobile che adesso sta ad aprire. Questi sono punti specifici, credo, che i consiglieri dovranno assolutamente attaccare. Non mollare l'amministrazione su questi punti specifici perché sono punti specifici posti dagli stessi documenti dell'amministrazione. In terzo luogo, misurazione al camino dell'impianto, centralina di monitoraggio di tutta l'area e poi raccolta differenziata. Perché noi abbiamo cercato, della raccolta differenziata spinta, cioè porta a porta, noi abbiamo cercato anche di essere non solo negativi, perché è giusto dire no quando la cosa è un'offesa all'ambiente e alla salute, ma abbiamo cercato anche di proporre delle soluzioni alternative. Insomma, voi sapete benissimo, la soluzione di base per il problema dei rifiuti è quella della raccolta porta a porta. La raccolta porta a porta sta partendo nel quartiere prospicente della discarica di Massimina. Allora, una cosa che bisogna esigere per evitare che questa non sia semplicemente una ciliegina sulla torta è un programma, un cronoprogramma, perché l'amministrazione dice che entro l'anno saranno 100.000 i romani che potranno praticare questo sistema di raccolta moderno e civile. Un cronoprogramma che preveda i passaggi successivi di tutti i quartieri della città, 100.000 all'anno è penoso, è pochissimo, bisogna assolutamente andare a fondo su questo problema, che non sia semplicemente un belletto, una cosa che il comune e la regione fanno per far vedere che lo fanno, ma che in realtà non ne frega niente, perché purtroppo loro sono legati a filo doppio con gli interessi del monopolista privato dei rifiuti di Roma, si chiama Magno Cerroni, ecco il sistema di finanziamenti che solo, come sapete benissimo, noi in Italia abbiamo finanziamenti statali che incentivano l'incenerimento dei rifiuti, infatti questo gasificatore di Malaglotta riceverà qualcosa come 150 milioni di euro a partire da quest'anno, figuratevi voi, siamo in crisi climatica, effetto serra, emissioni eccetera, noi ci mettiamo a incentivare le emissioni, per non parlare dell'altro, quello di Albano per quale si vocifera addirittura di 350 milioni di contributi dello Stato. Grazie. Sì, ringraziamo Sergio Pallonio per l'intervento, passiamo adesso la parola ad Antonio Amati, Presidente del Comitato per la Niene. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, io rappresento il Comitato per la Niene, che è una struttura che è nata alcuni anni fa e alla quale aderiscono numerose associazioni, sia sportive, sia ambientaliste che di altra natura, e comuni cittadini. Essa è ramificata sin da Roma, dove con le sue associazioni giunge fino a Subiaco e Vallepietra, quindi è presente lungo tutta l'asta fluviale del fiume Niene, che è il principale affluente del Tevere e che giunge qui a Roma, proprio qui dietro praticamente. Ora, il Comitato si è occupato di diversi problemi del fiume Niene, ma principalmente di quello che vede la possibile captazione definitiva dell'ultima sorgente perenne importante rimasta ad alimentarlo, quella del Pertuso. La sorgente del Pertuso, che si trova nel territorio del comune di Filettino, è una sorgente assai importante, sia per le dimensioni delle portate, sia per la qualità delle sue acque. Infatti, la qualità dell'acqua è notevole, basti sapere che l'acqua minerale Santa Croce imbottigliata è la stessa identica acqua proveniente da quella falda acquifera, da quell'acquifero dalla quale sgorga anche l'acqua della sorgente del Pertuso. Ora, da alcuni anni, ma già da sotto il governo Berlusconi e l'amministrazione storace per la Regione Lazio, la CEA aveva presentato un piano che ne prevedeva la captazione e il suo convogliamento nell'acquedotto del Simbrivio. L'acquedotto del Simbrivio è una struttura che serve praticamente tutta l'area dei castelli romani, circa 50 comuni ed è un acquedotto assai importante per quel territorio. Dagli studi della CEA Ato 2 emerge però che queste reti idriche che servono questi comuni hanno delle perdite ingentissime, hanno dei picchi di dispersione che raggiungono addirittura il 50%. Ora, la cosa più normale sarebbe quindi stata quella di provvedere a riparare queste dispersioni, queste fale nelle reti idriche ed invece si è provveduto a cercare di prendere altra acqua per convogliarla in un acquedotto che praticamente è ridotto ad un po' la brodo. Ora, questo prevederebbe la captazione di questa sorgente ma la distruzione del fiume Aniene nel suo tratto alto e medio perché il tratto alto del fiume Aniene è già gravato da numerose captazioni, infatti l'acquedotto del Simbrivio già è fornito da alcune sorgenti che prima alimentavano il fiume Aniene, ora prendere l'ultima sorgente ci appare proprio una cosa intollerante. In ogni caso per provvedere a mettere in atto questo piano è stata fatta una campagna a Stambal attorno al 2002 che furoreggiava attorno ad una presunta emergenza idrica di siccità ed è stata dichiarata uno stato di emergenza con un commissario straordinario per gestirla. Ora, basti pensare che mentre era in vigore questa emergenza dovuta ad una presunta siccità, l'Ardis, ossia una struttura della regione Lazio che si occupa della difesa del suolo, era costretta a prendere seri provvedimenti per evitare che le tracimazioni che il fiume Aniene stava mettendo in atto potessero causare dei danni. Quindi da qui appare evidente come sia stato incongruo questo provvedimento che mentre dava una parte si gridava al lupo al lupo per la siccità e invece nello stesso tempo le piogge facevano strarivare il fiume. Comunque ci fu una levata di scudi da parte delle popolazioni della Valle dell'Aniene che appoggiate anche da numerosi sindaci in quell'occasione, riuscirono a far sì che questo progetto non venisse portato in porto e quindi nella conferenza dei servizi della provincia di Roma e del Leato 2, i sindaci votarono contro la captazione della sorgente del Pertuso, acconsentendo però a una parziale captazione da effettuarsi solo in una condizione di emergenza. Ora questa situazione di emergenza si sta protraendo tra ben sei anni, cioè dal 2002, ogni volta viene rinnovato il decreto governativo, quindi ora è stato rinnovato l'ultima volta da Prodi, che decreta che esiste uno stato di emergenza idrica, che poi ci siano delle situazioni paradossali, basti pensare che la Regione Lazio ha chiesto insieme al prefetto che venisse instaurata nuovamente la situazione di emergenza. Siamo venuti a conoscenza tramite dei documenti che la CEA, che è la parte in causa che vorrebbe effettuare la captazione, ha scritto al prefetto affinché venisse dichiarata l'emergenza, quindi c'è un conflitto di interesse. Ringraziamo il terzo sacco per l'intervento, prima Dario Tamburrano faceva riferimento al Metap e quindi ringraziamo Senenetta Monti, coordinatrice del Metap Amici di Beppe Grillo Roma. Buonasera a tutti e grazie appunto al CAT per avermi invitato in veste di coordinatrice del gruppo di Roma, il Metap di Beppe Grillo. Quando sono stata invitata ero tra virgolette solo coordinatrice di questo gruppo meraviglioso che negli anni ha organizzato parecchie iniziative sul territorio. Io sono entrata, credo un po' come le altre persone in questo tavolo dopo aver conosciuto il Metap a uno spettacolo di Beppe Grillo. È un modo particolare e diverso sicuramente di fare politica, perché comunque su una comunità virtuale ci siamo trovati tutti a discutere problemi e tematiche della città in cui viviamo e ci siamo trovati poi in piazza insieme agli altri comitati. È una modalità sicuramente diversa rispetto a quello che uno della politica conosce fino adesso. Abbiamo appoggiato spesso e volentieri il comitato di Managrotta, abbiamo appoggiato anche i nococchi di Tarquinia nella loro battaglia contro la riconversione al carbone della centrale di Civitavecchia, abbiamo sostenuto le battaglie per il giudice De Magistris, questo per ricollegarmi al discorso che faceva prima l'Avvocato quando diceva che parlare di territorio significa parlare di una commissione di ambiente e abitanti. Non ci possiamo limitare problemi ambientali e non ci possiamo limitare problemi del singolo abitante. Dario vi ha accennato che ci sarebbero dei piccoli gesti che dipendono dall'individuo, che basterebbero a dare il contributo a migliorare l'ambiente in cui tutti viviamo e questi sono i passi che dovremmo compiere tutti quanti. Noi stiamo per affrontare un'avventura molto particolare in questo senso perché dalle nostre battaglie fatte in piazza dietro allo striscione che avevamo preparato in occasione del VT di settembre, non so se qualcuno qui dentro ricorda quello che è successo l'8 settembre a Roma, l'8 settembre del 2007. Beppe Grillo ha lanciato un'iniziativa molto particolare che ha scatenato un terremoto politico perché l'8 settembre ci siamo trovati a raccogliere nelle piazze di tutta Italia le firme per una proposta di legge che chiedeva un Parlamento pulito, ovvero parlamentari che non avessero condanne, che non superassero i due mandati di politico per non far diventare del politico un mestiere, che abbiamo visto ci sono persone che non riescono a staccarsi da quella poltrona neanche troppo 40 anni. Ecco qui le immagini, in quell'occasione su Roma e in tutta Italia come lo sapete è successo un fenomeno particolarissimo, persone che non tutte conoscono cos'è la piazza di internet e quindi semplicemente le comunicazioni virtuali hanno ricevuto il messaggio di scendere in piazza per mettere una firma per questa proposta di legge e noi abbiamo avuto persone che alle 9 della mattina, anche anziani, ci venivano a chiedere di mettere la firma per questa proposta di legge. Io personalmente ho capito lì che qualcosa sta cambiando in questo paese. Il percorso con gli amici di Beppe Grillo di Roma mi ha portato ad altre esperienze molto belle come quella dei ragazzi dell'associazione Adesso Ammazzateci Tutti, che è un'associazione di ragazzi calabresi, nata dal sud quindi, ed è nata alla luce dell'assassinio di Fortunio, Presidente della Regione. Bene, questi ragazzi hanno messo su una battaglia molto impegnativa contro la mafia e vedere che sono dei ragazzi che si prendono questa responsabilità è per me un grande segno di cambiamento e questo cambiamento noi lo portiamo nel cuore, lo portiamo nel cuore anche quando scendiamo appunto con il Comitato Malagrotta in piazza, quando ci battiamo perché un giudice come De Magistris possa fare il giudice come Cristo comanda, ma soprattutto adesso abbiamo uno strumento in più per cercare questi cambiamenti ed è la lista civica, amici di Beppe Grillo di Roma. Ripeto, Roberto mi ha invitato a questo convegno che ero solo un'ordinatrice del gruppo di Roma, oggi sono candidata a sindaco per la lista civica, amici di Beppe Grillo. È un'avventura e un impegno grandissimo, Sergio Polloni ha dato per scontato che noi staremo dentro al Campidoglio per risolvere il problema del gasificatore, io lo spero, lo spero di cuore perché è uno dei temi a cui veramente teniamo tanto e ricordiamo tutte le battaglie e gli sciocri della fame che avete fatto come Comitato. Spero che avremo l'aiuto di tutti quelli che come ha detto l'Avvocato prima, utilizzando una parola non da vocabolario, sono incazzati in questo momento politico, è un momento tristissimo per Roma, per l'Italia, fanno a gara per dire chi è che porta il nuovo in politica, fanno a gara per dire chi porta meno condannati nella propria lista. Noi vogliamo solo ricordare che l'abbiamo chiesto con il Vodè che non volevamo condannati, loro già ce li avevano nelle liste, li hanno portati avanti per tanto tempo e li hanno difesi per tanto tempo. Noi siamo qui a dire che i cittadini si devono riappropriare della politica, quindi basta con la delega, tutti quelli che sono qui dentro devono aiutarci e si devono aiutare tra loro per migliorare le cose, perché solo così potremo riuscire a cambiare questa città e renderla più vivibile. Grazie. Ringraziamo i nostri ospiti per gli interventi dai quali abbiamo sicuramente avuto modo di capire come le facce e gli aspetti degli ambienti siano molteplici. Io volevo solamente fare alcune considerazioni. I mass media ci inculcono sempre il fatto che l'economia globale è un meccanismo che ci permette di arrivare all'efficienza, all'efficacia, alla maggiore produttività e la comunità ci dice guardate che è meglio che i cereali li faccia la Germania, è meglio che il latte venga dall'Olanda, ma gli scarti e sottoprodotti di questa produttività, di queste economie di scala, come vengono gestite? Da chi sono gestite? Cosa si è fatto fino ad oggi? Ecco, vi lascio con questo interrogativo e avrei piacere che la parola passasse a Roberto Torre a conclusione di questi interventi. Grazie. Bene, io adesso spero di essere molto ristretto perché voi avete avuto tanta pazienza, abbiamo iniziato il ritardo per un problema tecnico, abbiamo iniziato il ritardo sperando che qualcuno arrivasse perché è bloccato dal traffico e l'altro grande problema che tantissimi non conoscono è la TAV, di cui io ho una storia sulle spalle lunga dal 95, siamo nel 2008, ricordo a qualcuno e forse qualcuno in sala può anche testimoniare, sono una di quelle persone che già combatteva questa politica, mi sono incatenato a Palazzo Chigi, sono stato sopra un cornicione e vi dico che avevo paura, ma la forza e la disperazione era tanta, li ho combattuti mandando filmati, dimostrazioni, oggi quando dicono ci sono le morti bianche e la solita presa in giro perché le morti ci sono veramente, loro non fanno altro che andare a funerali e a proporre resequie, denunciavo alla Procura della Repubblica queste cose perché gli operai erano tutti in stato di insicurezza perché anche voi molti non sanno che la TAV è stata fatta in questo modo e lo dirò in 4 punti, su un capitale X il 60% è stato spalmato ai partiti, il 30% lo ha gestito la Camorra, con il 10% è stata edificata la TAV, la TAV che fa dei bellissimi spot dove cammina, corre, ma non hanno mai parlato delle penetrazioni urbane e non le hanno mai fatte vedere dove ci sono persone che si sono date fuoco e tutt'oggi pagano le conseguenze, sono entrati direttamente nelle loro case, ma la cosa più grave, la responsabilità del Comune di Roma, queste case sono state giudicate incompatibili e allora cosa si sono inventati? Quello che stanno tentando di fare in Val di Susa, ma lì dovranno portare l'esercito per schiudare i valigiani, pagare un indonezzo per i danni che si creavano, allora come si può parlare di ambiente, come si può parlare di progresso, poi alla fine si va con la mazzetta a comprare il silenzio dei cittadini, magari offrendo una lira e colpendo i più deboli, coloro che avevano già il problema di arrivare a fine mese, io sono testimone, la TAV con gli amici di merenda, con quelli che sono poi i più pericolosi camerieri di partito, hanno ottenuto un cambio di casa a 30 metri, a 6 metri hanno offerto 1200 Euro, quindi queste cose lasciano riflettere, gente ammalata, gente che si è ammalata di cuore, ci sono state morti bianche dei cantieri, ma c'è stato qualche morto per infarto, di questo l'informazione, la becera informazione che paghiamo tutti noi, perché voi dovete sapere che milioni e milioni di Euro vengono date ai giornali che poi dicono siamo indipendenti, da chi? Dal cittadino siete indipendenti, quindi queste cose, io inizialmente avevo detto fortunatamente quel genio che ha permesso oggi di incontrare tanta gente, probabilmente questo convegno non ci sarebbe mai stato se non c'era l'opportunità di conoscersi attraverso internet, attraverso le idee, raccontando le proprie esperienze, la TAV sta seguitando a far danni, seguitano comunque a picchiarduro anche su Imbal di Susa, hanno fatto credere che c'erano gli infiltrati, la più grossa bucia del secolo, lì sono stati malmenati anziani, sono stati malmenati bambini e donne, addirittura un sacerdote è stato buttato giù da una scarpata, signori la democrazia è ben altra cosa, io non mi voglio pronunciare perché voglio dire, io posso raccontare le esperienze vissute, la lotta che si è fatta e vi dirò di più, sono intervenuti come sempre, come stanno facendo a Napoli, non lo raccontano, fanno le cariche alla polizia, chi ha avuto l'opportunità di vedere su internet i filmati amatoriali girate dove anziani con la testa spaccata, donne in terra, giornalisti...